Benvenuti all'Agenzia Fondocasa San Frutuoso, è piacere di proporvi in locazione questo bellissimo appartamento. Ci troviamo più precisamente in Piazza Giusti al numero 2, è un terzo piano, qui riscaldamente autonomo. L'appartamento, appunto, come potete vedere, è in perfetto stato, c'è il parquet da tutte le parti. Iniziamo con la vista, questa è la zona d'ingresso. Davanti a noi abbiamo una porta a finestra, vi faccio vedere anche la faccia, le finestre sono in alluminio, appunto i doppi vetri in alluminio di penultima generazione. Ora c'è questo gioco di luci che non ci fa apprezzare, ecco, abbiamo risolto il problema della luminosità. Rientriamo dentro l'appartamento, questa è un'altra inquadratura appunto della zona d'ingresso. Continuando, ci mettiamo in quella che è la cucina, perfetta in tutte le sue parti, come si può ben vedere. La casa ovviamente rimane completamente arredata, così come vedete. Poi c'è il corridoio, alla nostra destra abbiamo questo grazioso bagno piastrellato, col box doccia, finestrato ovviamente. Usciamo dal bagno e ci mettiamo in quello che è la camera da letto. Grande anch'essa, tutto come vi dicevo prima, poc'anzi, la casa è tutta in parquet, col pavimento in parquet, questo lo affaccio. Gli scuri sono anche in alluminio, anch'essi. Questa è la seconda camera a barra studio, particolarmente utile. L'esposizione in questo caso è un nord-ovest, nord-ovest. Quindi facendo il ripigolo veloce usciamo dalla cameretta singola a barra studio, la camera matrimoniale, il bagno, la zona appunto di ingresso, voilà, la cucina e voglio terminare il video appunto dalla parte esterna. Ci troviamo in via, in piazza Giusti numero 2.